Un attentatore kamikaze si è fatto esplodere nel parcheggio della Corte Suprema dell'Afghanistan a Kabul. Il bilancio è di almeno 20 morti e 40 feriti. La maggior parte delle vittime sono dipendenti della Corte. Tra i feriti ci sono anche donne e bambini. Il kamikaze, arrivato a piedi, ha innescato la propria carica esplosiva nel momento in cui i dipendenti stavano lasciando gli uffici. Quando ho sentito l'esplosione mi sono precipitato verso il parcheggio della Corte Suprema alla ricerca di mio fratello che lavora lì. Fortunatamente è sopravvissuto, nonostante fosse molto vicino all'attentatore. Purtroppo ci sono molti morti. La Corte Suprema era già stata colpita nel 2015 e l'attentato era stato rivendicato dai Taliban. Nel 2016, secondo l'ONU, si è registrato il più alto numero di vittime civili a causa di attentati terroristici in Afghanistan dal 2009. Il 10 gennaio un attacco simile ha provocato 38 morti tra gli impiegati del Parlamento.